ciao a tutte e a tutti nuovo video anzi buonasera a tutte buonasera a tutti allora nuovo video sulle tutte le mie palette questo video tag ma più che altro è un video per mostrare le palette che ho non tantina ma vi mostro per adesso quelle che tengo in mano io che tanto a tanto mi trucco con quelle e nulla se questo video vi piace vi interessa solo per qualche compagnia ok mettete un bel like ovviamente un bel pollicione seguitemi come instagram youtuber melania no aspettate melania youtuber melania tattino va sotto e su facebook come melania vastale mentre su instagram vola però letto tic toc melania beauty makeup e va bene così fatevi sapere con un commento se vi piace questo video e nulla iscrivetevi e attivate la campanella buona visione allora come prima palette vi mostro questa qui per la giova molto bella è abbastanza decorata fiora floreale vedrete che il pecco floreale e niente questa parte questa parte bellissima ciao allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dici se non ero dieci colori vedete vedete e niente vado veloce per se no vi arroiate ma vabbè e questi sono i colori e quali qui allora questi colori qui sono il più che io uso ovvero questi imperial sia imperial questo uso una volta ogni tanto non sempre ma uso sia questo ma per questo ci ha fatto un bel sorco questo non so come ecco qua questo qui è anche questo il blu lo uso una volta di papa anche questo però mi piace tanto a questo ed è col vabbè non lo so non mi riesco a leggerlo se lo leggete voi è meglio si vede spero di sì o comunque fidatevi e questa è questa è la paletta che mi piace davvero tanto che utilizzo di tanto in tanto cosa vuol dire tanto in tanto che la uso quando non vado di fretta perché sennò se vado di fretta preferisco a usarne usare una paletta passepartout cioè multitasking che l'otto di passepartout no questo di vabbè multitasking che si che mi permette di di fare un trucco veloce l'altra palette ecco la qui arriva naked 12 colori e shadow sarebbe questa qui sono presa su aliexpress e mi piace davvero tanto a 12 colori sì e mi piace perché ops il pennello allora qua questo è il pennello lo metto qui quando ho finito il video lo rimetto dentro allora vi dicevo tolgo la velina questi sono gli ombretti questi e questi ombretti non so cosa voi riusciate a vedere aspettate che ve la giro perché da una parte c'è lo specchietto allora questi questi sono gli ombretti che utilizzo quando insomma quando sono di fretta perché se scrivono di meno non me ne importa niente perché tanto poi quando torno a casa mi strucco bene bene vabbè mi piacciono e li utilizzo perché sono gli ombretti che preferisco che non fanno tanto fallout una pena però almeno è la palette che è tipo come appena detto prima non veramente si è multitasking appunto è multitasking e con questa non devo fare in fretta a truccarmi quindi qua c'è la cosa veloce è proprio show e show e alla veloce come dice Barbara D'Urso quindi sono a posto poi ah e tra l'altro se avete questa palette presa dall'express per la consiglio perché mi piace davvero tanto solo se l'avete se no se avete altri tipi di palette uguale a questa con gli stessi colori anche differenti va bene comunque uguale poi altra palette che amo alla follia è che oramai l'ho accantonata ma ho intenzione di riprenderla di nuovo è questa qua della aspettate come ho fatto vedere Makeup Revolution ma di che cosa Neotrans Neutron questa qui sarebbe che è un po' il pep specchiato da dietro vedete quale è questa qui si questa e e questo qui è quella che ho utilizzato in tutti questi anni questa e perchè se vedete così so il buco direttamente che si vede lo scheletro della palette perchè mi piaciuta tantissimo quindi è top quindi non lo so ma devo dire che sono strainnamorati questa palette lo ero fino a ora e adesso mi piace ancora di più nonostante l'ho accantonata un po' l'ho messa un po' da parte anche qui vedete il sorco ovvero il buchino perchè è mi piaciuta mi è stra piaciuta questo lo uso come non per fare le sopracciglia ma come matita eyeliner nella rima inferiore dell'occhio questa qui questi lo stesso li uso come non so non voglio dire multaschi li uso quando voglio fare un trucco un po' di veloce e mi piacciono però dicevo questi colori mi piacciono ma gli altri non tanto perchè sarò un po' un pugno nell'occhio non so perchè questa palette mi ha soddisfatto un po' tantissimo ma di più mi ha soddisfatto questi colori qua un po' di giognoli i più accesi secondo me erano ciao e niente aspettate razza che mi metto eccomi qui allora vi dicevo questa palette è questa qui sarebbe questa che mi vedete una volta ogni tanto utilizzare solo che adesso sto letterizzando altre palette che non so se vi ho messo vi ho preso ma penso di sì ed è questa qua e appunto questi colori mi piacciono questi da questa parte qui però questi di giù non tanto sì vabbè questo l'ho usato non so per quale trucco però non mi ha fatto impazzire devo dire la verità vedete ve la vicino ma vabbè ci siamo capiti il resto mi è piaciuto ma gli altri trucchi che ho fatto sì ma ci sono dei trucchi che mi sono piaciuti come i trucchi che non mi sono piaciuti quindi ah no ecco qual è la palette che uso quasi spesso perchè questa vi dicevo l'ho accantonata l'ho messa da parte per dire una cosa più esprimativa mi dico meglio che l'ho messa da parte perchè è accantonata non mi riesci a finirlo come si suol dire bene vabbè no c'è un pet vedete voglia allora questa è sopix petto specchiato extra spice che sto amando la follia e questa è l'altra palette che io adoro morire allora io utilizzo tante volte per fare la base everyday sarebbe questo everyday e e e nulla mi piace everyday poi come base vabbè potrei metterci per insieme del correttore primer correttore a modi primer che non viene male perchè sapete cosa è successo tutte le volte che metto il correttore come primer la palpera mi suda non so il perchè non ho idea del perchè e quindi tutte le volte lasciamo perdere il fatto che io ho una palpera sudata di mio perchè tutte le volte o perchè devo mettere i colliri o quell'altro però boh non saprei poi romance romance mi piace lo stesso ma che dicevo ho una bella base occhi cioè un bel primer ma io non mi interessa di comprare altri trucchi quindi mi accontento di prendere il correttore che ho in casa in qualsiasi correttore che ho vabbè qualsiasi quello che mi ne ho comprato in questi giorni più quello che devo ancora terminare sarebbe l'infalibro di L'Oreal comunque vi stavo dicendo senza cambiare troppo discorso questo è romance 21 lo uso quando voglio accendere questi colori qui accendere di più i colori che sono troppo chiari li voglio un po' più intensificare come si vuol dire vedete eccoli qua 21 è romance si stavo dicendo altra cosa non c'entra niente poi dreams mi piace lo stesso ma quando voglio fare un punto luce nell'occhio vedete sarebbe questo dreams lo vedete al contrario ma è la verità è lui cioè non la verità è perché la palette è alla rovescia però questo è dreams poi come altro colori che indosso amo tanto tanto perché mi piacciono a me e perché faccio una pazzia di make up impazzia si intende per dire che non ho idea neanche io di che colori mettere metto infinity infinity sarebbe questo lo sapete anche lui questo qui è infinity e mi piace molto è un bel color celestino barra grigiognolo si può definire così? no forse un bronzo un bronzo celestino vedete questo qui sto parlando di questo qua non lo so se si può definire bronzo o grigiognolo non ne ho idea comunque quello è quello io metto guarda di tanto in tanto qui mi serve di una salviettina perché altrimenti mi insorcio tutte le dita allora questa ce la rimetto qua dentro un attimo solo e come penultima palette vi mostro questa qui di jewell collection deluxe questa qui sarebbe vedete col pack tutto brillantinato eccolo qua della make up revolution sempre un po' zuzzino ma non me ne vogliate ma io o mi trucco o mi trucco o non mi trucco per niente quindi questi sono tutti i colori belli perché nel video di prima che sono messo stamattina che ancora devo pubblicarlo che da in privato ovviamente ho detto una grossa fesseria ho detto praticamente questi colori sono tanti colori che c'entra tanti colori vabbè lasciatemela passare sono stata appena assonnata non lo so non ho idea l'ho fatto con il telefono iphone pensando che non registrasse chissà che cosa anche lì un'altra fesseria ma va bene commenti lasciatemela dire però è così alla fine non sono riuscita a realizzare il trucco che volevo perché uno è vero avevo le ciglia che mi sono un po' non so come spiegarmi sì insomma avevo le ciglia un po' sensibili dipende da quello che applico o via discorrendo mi si fanno le ciglia come dire ipersensibili sì per la bellezza che purtroppo se metto un mascara che non lo so vabbè adesso non sto qua a dire ve lo dico in un altro momento comunque non so quanto verrà lungo questo video non lo taglio perché sennò non si capisce nulla già quel video ho tagliato anche troppo e penso che non si capisca una mazza ma va bene no comment allora vi dicevo questi ombretti sono tutti belli mi piacciono li utilizzo sempre e sono bellissimi perché li adoro ma perché qua c'è tutta sta luce allucinante le fate anche la battuta la rima ok perché sennò così non si vede la mazza e ho ci potevo pensare prima boh vabbè più ok no così sono troppo accese vabbè comunque eh no non si vede niente così aspettate un secondo perché io così non vedo un cavolo vabbè dovrei mettere così per forza perché altrimenti non si vede niente ragazzo perché questo comunque sono gli ombretti che io adoro di più mi piace questo rosa questo qui lo sto sciorcando cioè lo sto bucando mi sta lo sto applicando tantissimo questo ci faccio i punti luce con questo e vabbè che ve lo dico a fa mi piace un botto questi ombretti e quasi con tutti l'esperimento non faccio molti post su instagram scusate ma qualcosa mi sta grattando molto il naso vabbè vi dicevo non faccio molti instagram stories perché tanto vabbè mi trucco per conto mio senza che nessuno mi deva dire o fare niente nel senso mi deva criticare o dire cose perché ognuno libero di truccarsi anche privatamente e poi farsi foto e cose e metterli in ogni in ogni dove c'è tipo instagram tiktok e via discorrendo però a volte io preferisco farmi una foto e basta e buttarle lì e scrivere qualcosina di breve ecco qua di poco importante comunque questi sono gli ombretti e niente questa è la palette di Shewell Collection Deluxe mi piace e la adoro mi piace da morire non lo so allora eccomi qua dunque è tornata e questo è il video finisce qui sperando a quanto siamo arrivati a 15 minuti di video scusate se guardavo i minuti ma spero di non avermi annoiato se è così fatemelo sapere sotto un video e questo è il mio canale ma non ci posso fare niente a me i video lunghi o corti non so se riuscirò mai a farli però questo è un intento di voler trattenere in qualche modo e già e nulla e che dirvi se questo video appunto vi fosse piaciuto no come sto parlando no vabbè se questo video vi piace mettete un bel pollicione all'insù o in giù come pare a voi e commentate qua sotto iscrivetevi e attivate la campanella ciao ah a proposito vi piacciono le mie unghiette? spero di si e se è così vi faccio vedere che ho applicato quello di pupa pupa non mi ricordo questo è il pupa vedete pupa sì 040 credo che sia se non erro per la referenza no vabbè sto dicendo una cacchiata 040 eccolo qua vedete non si vedrà mai niente fidatevi però perché qui è di boh comunque questo è quello che vi so di io e 5 ml di prodotto e questo è il mio smoltino comunque spero che vi piaccia niente nulla ragazze questo era tutto io sono Tolè Martinos e Van Gogh in arte no Vanessa in arte Van Gogh e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazze un bacio adesso appena a posto lo pubblico e lo monto anzi prima lo monto poi lo pubblico ZOMBI APOCALYPSE